Movimento 5 Stelle e Lega di Matteo Salvini hanno concluso il contratto di governo in attesa adesso dell'indicazione del Premier. Domani, domenica 20 maggio, in tutta Italia il Movimento 5 Stelle sarà impegnato a presentare ai cittadini i dettagli del contratto di governo, anche ad Agrigento, domani mattina a San Leone, alla piazzale Aster, dalle ore 10 alle 13. Ascoltiamo in proposito il deputato nazionale Michele Sodano. In tutta Italia scenderemo nelle piazze per illustrare questo contratto di governo, questa linea programmatica per il governo dei prossimi 5 anni che siamo riusciti a raggiungere dopo quasi 80 giorni di duro lavoro per portare agli italiani con il cambiamento che abbiamo promesso in campagna elettorale. Io sono molto felice perché in questo contratto di governo abbiamo inserito tutti i temi che veramente faranno la differenza nella vita di ognuno. Partiamo dall'acqua, che è un tema storico del Movimento 5 Stelle, vogliamo che sia pubblica per tutti, il superamento della legge fornero, il superamento della buona scuola, il salario minimo garantito, una formula per cui si possa andare a lavorare e avere dei diritti minimi di base che possano garantire a tutti una buona qualità della vita. Ma ci sono dentro tantissimi altri temi, c'è una lotta al gioco d'azzardo, c'è un'aumentare il numero delle forze armate per aumentare la nostra sicurezza e naturalmente il taglio degli sprechi, dei vitanizi, di quei privilegi che stiamo vedendo ogni giorno in politica hanno fatto da padrone fino ad adesso. Naturalmente noi vogliamo ristabilire i diritti sociali, quei diritti che la sinistra ha distrutto in questi ultimi anni. Ecco, ripartiamo per un'Italia migliore, ripartiamo tutti insieme per dare all'Italia un futuro che ci meritiamo. Quindi noi saremo in piazza Noigigiglia, piazza Neaster da ne 10 a ne 13 con del materiale informativo per discutere con tutti i cittadini e dimostrare questa nuova grande fase che ci apprestiamo a percorrere tutti insieme. Quindi vi aspettiamo felicemente domani a San Leone. Grazie. Grazie.